Purtroppo nella giornata di ieri Dazon ho deciso totalmente di abbandonarmi quindi veramente non ho visto alcuna partita se non insomma gli highlights un pochino di qua un pochino di là ma per fortuna gli spunti non mancano mai il primo dal quale volevo partire appunto dalla partita che ha visto opposte Bologna e Roma un Bologna che ha vinto contro Roma per 2-0 ma appunto al Bologna mi sento di fare i miei più grandi complimenti perché nel giorno del primo anno di ricorrenza della morte di Mialovic il Bologna è stato veramente una squadra che ha funzionato come se fosse un cecchino veramente una squadra ben messa in campo complimenti a Niamotta che occupa bene gli spazi che ancora commette qualche errorino infatti insomma soprattutto su un'azione che adesso vi metto qua l'immagine è evidente l'errore che ha fatto la difesa del Bologna perché comunque un difensore già era alto va a uscire l'altro quindi si vanno a trovare un 2-1 due bolognesi contro l'umanista la palla spizzata da l'umanista e la palla va a finire a Belotti che è giusto perché poi Ravaglia ha fatto una bella parata ma altrimenti era una potenziale occasione da gol o meglio è stata una potenziale occasione da gol che insomma lì bastava poco e niente che la Roma avrebbe accorciato le distanze ma comunque mi sento di fare veramente tanti complimenti al Bologna perché è veramente una grande squadra Motta si sta rivelando un grandissimo tecnico con ottime idee e penso che meriti ampiamente il salto di qualità staremo a vedere poi a fine anno cosa succederà perché ripeto mi sento pronto un po' a tutto sia il fatto che Motta decide di proseguire a Bologna per creare una sorta di ciclo atalanta come appunto lo stesso Sartori il direttore sportivo dei Flessini e Fecia Bergamo o magari si deciderà per propendere per altri lead poi dipende anche un po' dal mercato come si svilupperà però insomma secondo me Motta sarà un tecnico ambito nelle state 20-24 spero anche che torni al gol che trovi il gol in Doye perché secondo me, anzi non secondo me lo dice anche lo storico ma anche secondo me insomma il giocatore ha tanti gol nei piedi però ad ora non è ancora riuscito a portare avanti il suo potenziale a svilupparlo una volta per un tiro finito fuori di poco un'altra volta per una deviazione un'altra volta per il difensore avversario che ti anticipa insomma Doye ancora non riesce a trovare il gol ma se uniamo la classe e la potenza di Ferguson e gli inserimenti di Ferguson la classe di Zirze che comunque come tre quartiste secondo me potrebbe diventare uno dei top un Doye che potenzialmente ha tanti gol nei piedi se affianchi a questi giocatori un centro avanti da tanti gol ragazzi comincia a diventare veramente una formazione molto pericolosa quella del Bologna quindi complimenti a Motta e dall'altra parte una Roma che è ancora troppi 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 up and down e qui mi vorrei collegare alle dichiarazioni di Murigno in primis perché sconfessa Renato Sanchez fondamentalmente al di là della sostituzione parlo proprio a livello concettuale un allenatore che dice non è pronta al salto di qualità facendo riferimento anche al discorso del suo condizionamento psicologico dovuto agli infortuni mi sembra un'affermazione molto 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 significativa quella di Murigno per un giocatore che lui non ha mai secondo me ha provato più di tanto non tanto come caratteristiche di gioco ma proprio per la sua tenuta fisica per il discorso che è molto spesso è fuori molte volte Murigno ha anche detto se fossimo un big club non verrebbe Renato Sanchez o comunque il concetto era questo come dire se fossimo veramente un top club non arriverebbero giocatori rotti da altri club quindi e questa è la prima cosa insomma da prendere in considerazione dopo secondo me ha fatto una mossa un po' da paragnosta per non dire da paracì dicendo io sono legato a questi colori voglio continuare se me ne andrò non sarà per volontà mia in parte il sottoscritto pensa appunto che sia veramente una mossa astuta per mettere le mani avanti come dire io voglio continuare a Roma se poi noi andiamo male io voglio comunque continuare è la società che mi vuole cacciare un genio della comunicazione quale Murigno che esso sia apprezzabile o meno apprezzato o meno io non l'apprezzo più di tanto per in effetti questo secondo me è stata una mossa molto comunicativa molto volta ad anticipare un ipotizzabile addio quindi Murigno campione di comunicazione qual è? mette le mani avanti dice ragazzi io voglio restare anche se dobbiamo fare i conti col ferbile finanziario ma se vado via non è colpa mia è la società che non mi vuole poi magari gli arriva l'offerta e lui già verso l'ultimo giorno dice eh ragazzi faccio bagatti e bagatelli eh però però non sono io che voglio andare via è la società che mi ha voluto mandare via una bella paragolata eh vabbè comunque ok quindi questo è il mio pensiero riguardo riguardo Murigno da Roma e il Bologna mi sento dire anche poco della partita serale quella che ha visto vincere l'Inter per lo giro contro la Lazio appunto perché non l'ho vista a parte i gol ma mi sento dire un Inter veramente stracinica un Inter che si vede che è consapevole dei propri mezzi e ha una sicurezza che negli ultimi anni non ha mai avuto quest'anno ce l'ha combatte su ogni pallone ma Rusic se non ricordo male ha fatto una minchiata clamorosa sul gol sul primo gol dell'Inter che è stato Lautaro Martins cioè tu non vai a fare quel passaggio alla cieca a Provedel quando hai quando sai di avere due attaccanti di fronte quindi Lautaro e Turam che vivono su quegli attacchi palla però insomma è stato bravo il Toro a metterla dentro il secondo va alla difesa ballerina e poi giustamente il Turam può essere il 2-0 per l'Inter ma un Inter che è killer un Inter che è veramente cinica cattiva consapevole e io continuo a dire che questo scudetto può perdere soltanto l'Inter perché al di là di tutto ok che ha allungato più 4 su Juventus ma al di là di tutto non vedo squadre fuori la stessa Inter capaci di perdere questo scudetto cioè l'Inter è artefici del suo stesso destino se l'Inter gioca e non fa cavolate lo vince secondo me a mani basse difficilmente la Juve potrà recuperare il Milan è vero che ha vinto nettamente contro il Monza però è questa la prima vera importantissima prova di Reinders ma comunque il Milan ancora secondo me non lo vedo cattivo in campo insomma secondo me l'Inter ha una marcia in più se non 1,5-2 rispetto al Milan in campionato e poi stiamo a vedere quello che farà Juventus perché la Juventus è sempre lì è un 1.2 che va costantemente a 140 in autostrada sta a 5.000 giri 6.000 giri ma quel ritmo devi portare per tutto l'anno mi fido di Allegri però non me ne sento neanche così per scontato che la Juventus abbia un un cammino facilissimo al di là del fatto che abbia soltanto una competizione due diciamo con la Coppa Italia quindi insomma è da vedere e poi e poi e poi non potevo ancora fare i miei complimenti a Simic giocatore che sul canale ho palesemente sostenuto Pioli deve metterlo dentro ora non è che mi sto che sto dicendo ah sono un fenomeno perché comunque ho proiettato il gol di Simic assolutamente no però Simic ha fatto vedere le qualità e dopo questa partenza il giocatore non deve fare altro che migliorare e Pioli non deve fare altro che dare fiducia al ragazzo altrimenti questo qui mi arresta il suo processo di crescita quindi forza Simic spero che Pioli ti dia sempre più importanza poi scusate un po' per la voce scusate per il discorso che non avevo potuto vedere le partite ma da Zon mi si è voltato contro scusate anche se sto tardando quel diciottesimo episodio di Football Manager la carriera con l'Atletico Madrid però abbiate pazienza veramente è un periodo molto stressante per il sottoscritto quindi cerco di fare il mio meglio quindi spero appreziate questa cosa comunque fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi ciao